Buongiorno cuori, altro piccolo video per mostrarvi quest'unica creazione che inaugura la serie di creazioni per San Valentino e soprattutto un mio nuovo modo di creare, con il panno oltre che con la pelle, questa come potete vedere è un contenitore, può essere usato sia per documenti che per penne, per caramelle, si può chiudere, farò un buchettino per chi, se qualcuno lo vuole chiudere come contenitore per regalare delle caramelle, dei cioccolatini, ne farò uno anche blu e panna per regalare dei baci perugina insomma mi sbizzarrierò su questo genere proprio per San Valentino ma anche per gli amanti di queste creazioni tanto pucciose e carine e simpatiche vi saluto e vi ricordo che troverete tutte le mie creazioni nella mia pagina facebook i colori della fantasia bijou e se vi piace il video aiutatemi a crescere condividendolo e cliccando mi piace ciao